con mister antonioli al primo allenamento rosso blu mister benvenuto san benedetto grazie ringrazio saluto tutti i tifosi oggi primo allenamento domani già una prima partita con di coppa con il portodascoli cosa si aspetta dal match di domani ma cosa mi aspetto non è che mi aspetto niente di particolare chiaro che siamo appena arrivati e ci troviamo subito ad affrontare una partita comunque di coppa italia un impegno ufficiale ci teniamo a fare bene ci teniamo comunque a conoscere soprattutto quello che ci aspettiamo e conoscere la squadra da avere la conoscenza il prima possibile perché ci aspettano partite impegnative siamo siamo indietro dobbiamo rincorrere e quindi non possiamo perdere tempo quello che chiederò ai ragazzi è solo impegno lavoro sudore e fatica che sono le cose fondamentali in questa categoria